Buongiorno e buon caffè. Qualche giorno fa ho pubblicato questa foto all'arrivo del trofeo Montestella, una corsa di 10 km che abbiamo fatto qui in quartiere. Una corsetta bella tosta, molto più tosta di quello che possa sembrare dal nome così benaugurante, perché è una corsa di persone dure e pure. Voi sapete a noi piace andare a correre, qualche volta piace anche sfidare. Dicevo prima che mi scivolasse il telefono, piace anche sfidarci su delle competizioni un po' particolari. Questa è una di quelle, perché è per atleti belli temperati, belli tosti, corrono tutti molto veloci. Tra l'altro è una giornata molto nebbiosa, molto freschina, molto umida, molto sgradevole da un punto di vista climatico e c'era gente che andava veramente forte. Alla fine abbiamo fatto questa foto, ve la faccio rivedere. Come si vede siamo un po' sfatti tutti e due, un po' stanchi. Che mi ha dato anche l'idea per questo caffè. È vero, quello che scrive è bellissimo. Non c'ero arrivato, la ringrazio perché è una ricchezza, una perla, un pregio. È veramente così. Si fa fatica, si fa fatica, si corre, c'è qualcuno che corre più avanti, qualcuno che corre più indietro, ma quello che sta più indietro magari ti incoraggia quanto ti incrocia, perché nella vita ci si incrocia, ci si incrocia spesso. E poi ci si aspetta l'arrivo. Si parte insieme, ci si aspetta l'arrivo e ci si sorregge, così come scrive Lucia. Ci si sorregge perché ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di fare fatica assieme, essere assieme, a Milano diciamo, a tirare la carretta. Ma questo è proprio il bello. È proprio il bello. Il bello del vivere assieme, il bello dello stare assieme, il bello di trovare assieme il tempo di fermarsi a raccontarcelo, di fermarci a guardarci negli occhi e a fare le cose assieme. E se qualcuno va più veloce, qualcuno più lento, pazienza. Se qualcuno oggi non ha voglia di andare e va per l'altro, pazienza, perché poi alla fine siamo felici assieme. E credo che nella vita sia sempre così. E voi cosa ne pensate? Buongiorno e buon caffè.